Pronto? Ciao Matti! Ciao Santi, dimmi! Senti Matti, io ho bisogno di un consiglio. Sabato sono fuori con Lucy tutta la notte, ad una festa, e ad essere sincero, domenica non ho tanta voglia di giocare. Hai qualche consiglio? Cosa posso fare? Vabbè, facciamo così, mi è venuta in mente un'idea. Siccome conosco Valerio, uno tutto precisino, che ci tiene agli orari, tu fai così, arriva la partita all'ultimo minuto, così siamo sicuri che lo fai arrabbiare e non ti fa giocare. Ma dici che funzionerà? Sì, sì, fidati tranquillo, vedrai che funzionerà. Vabbè, ok, grazie Matti, ciao, ci vediamo. Grazie a tutti. Ciao. La puta madre, non c'è nessuno, no? Ciao coach, sono arrivato in ritardo, scusa, ho avuto problemi a casa, c'era del traffico, ho tamponato uno per la strada, mi ha fermato la polizia, quindi sono arrivato in ritardo, mi spiace. No, no, ma tranquillo, non preoccuparti, sei qui un'ora prima, adesso vai a cambiarti che poi inizia la partita. Ohi, Santi, ti sei sbagliato, c'era l'ora solare stanotte. Porca... In volo con voi è un salto, è voglia di andare più in alto che vuoi. E poi tutto braccio e noi tutta voce, nell'abbraccio, ci stringiamo qua, sotto il cielo di Paloma.